E salve a tutti amici copriani e bentornati in questo nuovissimo video Oggi vi faccio vedere tutte le uscite, visto me l'avete chiesto, delle varie mappe, tutte quelle nuove, visto che è cambiato un po' il punto di spawn Allora, sempre adesso se clicchiamo O ci dà solo il tempo, se clicchiamo due volte O ci danno le uscite Allora, adesso questa uscita dove sono adesso non me la segna, però questa sarebbe l'uscita Tunnel Quindi se dovete uscire Tunnel è questa parte qua che diciamo tutti conosciamo già dai vecchi tempi di Shoreline, quella parte è inutile Adesso come uscita abbiamo roto cast, ccc, tempera, pierbot e bla bla Questa qua che vi faccio vedere è pierbot, per esempio vi ricordate la vecchia uscita di prima, superata La gas station in fuoco, ecco praticamente noi se vediamo che c'è la barca con la luce che lampeggia sopra Possiamo andarci, possiamo estrarci, quindi ci andiamo Il problema è che vi prenderà 30 secondi E intanto comunque vi ricordo che in descrizione trovate il link per il discord e soprattutto la pagina facebook Che lì vi do tutte le notizie, varie cose anche su discord Ogni tanto annuncio qualcosa e bla 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 E quindi vedete siamo qua e ci dà 30 secondi per estrarre Quindi è un po' pericoloso Ora torniamo indietro dove c'era la gas station e invece di andare a destra andiamo a sinistra e continuiamo dritto 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 A un certo punto troveremo questa parte qua, che questa è ccp temporary, quella parte lì insomma Noi andiamo in questo punto e iniziamo ad uscire Poi stiamo sempre sulla stessa strada Andiamo, arriviamo fino in fondo che c'è road to custom che è questo portone qua Dopo road to custom c'è praticamente l'ultima Che è rock passage E ci sono se riuscite random da scav e pmc Quindi poi magari farò un video a parte E come punti di riferimento se arrivate all'elicottero Se voi guardate a sinistra arrivate verso il ccp e road to custom Mentre se andate a destra arrivate al Al coso, come si, al tunnel Poi voi andate dietro, vi tenete alle spalle il La coda del Dell'elicottero e andate dritto, superate questo edificio Arrivate in questo punto che uscite dal sanatorio Come lo volete chiamare E troveremo rock passage Questa è una delle uscite Che possono essere chiuse Che se ci sono i flare verdi Come vediamo qua Vuol dire che ci si può uscire Invece ccp vedete che c'erano le luci sopra Praticamente quando nell'uscite Quelle che, quando vediamo quali abbiamo Se non vediamo niente Vuol dire che sono libere Che possiamo uscirci sicuramente Se invece abbiamo i punti interrogativi Non sappiamo se sono disponibili All'uscita E comunque vi ringrazio Perché siamo arrivati a mille iscritti E vi ringrazio veramente tanto E tra poco uscirà lo speciale E quindi grazie Grazie, grazie, grazie Allora, qui c'è custom C'è questa modalità con la mappa Se abbiamo la mappa Noi possiamo scegliere dove spawnare La mappa la potete prendere dove volete Dalla terapista Qualsiasi livello Allora, se noi scegliamo custom Abbiamo le classiche uscite di sempre Quindi è inutile Ve lo faccio vedere Se invece spawniamo a boiler tank Queste sono le nuove uscite Diciamo che potete spawnare boiler tank Se avete l'uscita Insomma, se avete lo spawn casuale Allora, una volta che noi Insomma, sponiamo alla fine Della mappa Torniamo indietro Dove c'è il Il minimarket Quindi andiamo a destra E troveremo Questo Coso Questo Campfire E qui c'è la barchetta Insomma, andiamo qua Dove c'è la barchetta Inizierà l'estrazione Mentre L'uscita Quella dopo Che è il Rauf Roadblock Invece di andare a destra Noi poi andiamo a sinistra Dove c'è il minimarket E Troveremo il Camion Quello dove c'è scritto Welcome to Tarkov Praticamente lì è dove Inizieremo a estrarre Che sarebbe Questa parte qua Quindi ci mettiamo qua E iniziamo ad estrarre Ora qui Avevo anche sbagliato Non so perché stavo tornando indietro Mentre devo continuare da questa parte La prossima uscita Vi farò vedere È Trailer Park Quindi Noi continuiamo da questa parte Qui questa zona La conosciamo tutti Eccetera Praticamente noi usciremo Dove sarebbe uno spawn Di Gaston Quindi noi ci teniamo Alla sinistra Andiamo dove c'è il boschetto Rimaniamo A sinistra Appiccicate al muro E Insomma Inizierà ad estrarre Non proprio appiccicate al muro Però insomma Andate verso il muro E inizierete ad estrarre Poi Molto semplice Rotto Custom Se siete dalla parte Di Trailer Park Continuate dritto Per questa strada Arrivate Laggiù in fondo E inizierate ad estrarre Laggiù in fondo E Eh niente Insomma Sì queste sono le uscite Di Custom Quelle non casuali E diciamo Sì quelle casuali Tra virgolette Spanate dall'altra parte Uguale C'è lo stesso sistema Vuz Potete scegliere Lo spawn Che ora qui Niente Arriviamo in fondo Si vede Che eshtrago E comunque Eh Ultimamente ci sono state Tante live Spero di riuscire a farne altre Su altri giochi E speriamo che uscirà La giornata Presto l'aggiornamento Di escape Comunque Eh Spawnati Eh Nel Nella zona Quella A destra Quella dall'altra parte Di Vuz Eh Quella prima uscita Che troveremo Sarà quella della macchina Che è la South VX Che gli dovete dare 3000 rubli Poi se continuate dritto Arrivate verso l'aereo Che troverete Poi tenetevi l'aereo Alla schiena Troverete quelle casse Voi come punto di riferimento Prendete queste rocce E continuate dritto Ogni tanto guardatevi a destra Troverete il bunker Eh Sarà sempre Eh Sempre lo stesso sistema Che se è acceso È acceso Vuol dire che ci potete uscire Se c'è il flare verde Quindi arrivate sotto Entrate in questa porta E qui inizierete Ad estrarlo Poi Se noi saliamo E praticamente Poi usciamo E giriamo a destra Tenendoci sempre Il muro a sinistra Troveremo quel casone Noi continuiamo Cioè noi Insomma andiamo Dopo il casone E troveremo questa zona qui Che è La La root block Che possiamo estrarre Sia da Sia da dentro Sia da fuori Poi Ce lo mettiamo alle spalle Continuiamo dritto E troveremo Insomma L'ultima uscita E niente ragazzi Che a dirvi Spero che questo video Vi sia stato molto d'aiuto Vi ho fatto vedere Le uscite quelle nuove Ricordatevi che su Woods e custom Avrete la mappa Factory non ve l'ho fatta vedere Perché tanto sono sempre le stesse Quindi se Le uscite Insomma Se voi avete la mappa E uscite E volete entrare Nella stessa zona Dove conoscete Le uscite Insomma Non è un problema Però Ve l'ho fatto vedere Tra poco spero che uscirà Lo speciale Mille iscritti E poi più avanti Magari vi farò uscire Il video Delle varie uscite Da scav Delle varie mappe Che sono tantissime Le uscite da scav Quindi io Che dire Io vi ringrazio per la visione Vi ringrazio ancora Per i mille iscritti E noi ci vediamo In un prossimo video In una prossima live Vedremo E quindi niente Alla prossima Ciao ciao Ciao